Benvenuti a tutti ragazzi, sono Marce e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Come notate ragazzi, è da tanto che non carico un video, ma sono qui per dirvi che sono tornato definitivamente. Sei! Oggi, 9, 6, 2014, Marce inizia a fare un video al giorno. Oggi sono qui anche per farvi un video abbastanza interattivo, perché, come vedete, non c'è nessun gameplay di sottofondo, ma vedrete delle immagini passare a momenti. Il perché? Perché voglio chiedervi le serie, qualche serie da portare sul canale. Vi dico solo che inizierà una serie in compagnia di tanti altri youtuber e un'altra con Alice. Continuerò quella con Danny Lion e la One Piece con Gabby, però sono serie che comunque porteranno via tempo per quanto riguarda le serie multiplayer. Io vorrei sapere da voi una serie in single player da portare. Questo cosa vuol dire ragazzi? Che voi nei commenti mi scrivete hashtag marciserie e mi scrivete la serie che volete vedere. Può essere una mod, può essere un survival in hardcore, può essere non so, quello che volete. Basta che mi scrivete una serie che può piacervi. Ragazzi, i video usciranno quasi sempre alle 11 di mattina, barra... non lo so. Però preferisco farle uscire alle 11 visto che c'è meno bug di mattina e siccome siamo tutti a casa da scuola... E penso ci sarà più pubblico che potrà, diciamo, godersi i miei video. E ragazzi, vi saluto. Spero che il video comunque vi sia piaciuto anche se sia stato cortissimo. Vi invito a lasciare un like. E vi chiedo di mettere mi piace alla pagina di Fizu. Perché veramente lì, ragazzi, parlerò con voi iscritti molto più direttamente. E siccome siamo solo a 120 mi piace, mi piacerebbe salire un pochino di più. Quindi ragazzi, bella ragazzi, ciao a tutti.